Arriverà anche a Gela l'Educational Tour della Memoria promosso dal distretto turistico Valle dei Templi nell'ambito del progetto Emigrantes. 12 turisti illustri invitati in Sicilia dai comuni partners visiteranno la città del Golfo venerdì 11 marzo prossimo. L'ospite del comune di Gela, Giuseppe Caltabiano, arriva dallo stato del Montana negli Stati Uniti d'America dove assiede la sua azienda, una delle più importanti società al mondo che fornisce pagamenti elettronici sicuri a 19 paesi. Caltabiano, 54 anni, parla sei lingue e ha operato in cinque continenti. La sua storia privata e professionale, pur essendo stata molto intensa, non ha mai dimenticato le sue origini. Ha lo scopo, questo tipo di iniziativa, di far arrivare quelli che hanno emigrato nel tempo dalla Sicilia, i figli degli emigranti e l'interesse a visitare la terra d'origine. Sostanzialmente, quindi, con questo rapporto quasi emozionale rispetto alle terre d'origine. Anche questo fa parte del lavoro di mettere insieme varie possibilità perché, come sappiamo, la chiusura dell'impianto che occupava un numero importante di lavoratori, adesso dobbiamo trovare delle alternative e il lavoro che stiamo facendo in maniera pressante da quando noi ci siamo insediati è proprio quello di sviluppare settori diversi dal petrolchimico, che sono il turismo in questo caso, l'agricoltura, l'artigianato e così via. Questa iniziativa di venerdì si inserisce in questo quadro. Verranno da ogni parte del mondo un certo numero, non tantissimi, dai 15 ai 30 persone che vengono organizzate dal distretto Valle dei Tempi che hanno questa caratteristica. Sono emigranti che ritornano nella loro terra di origine in modo da farsi testimoni al promotore di ciò che avranno visto, che probabilmente molti di loro non hanno mai visto.